un pezzo di ca... adesso vediamo che succede come andrà a finire speriamo bene perché sennò dopo stiamo proprio nei guai perché non c'è neanche un soldino per comprare la roba ragazzi aspettiamo pandre mamma mia che capelli mi dovrei tagliare iscrivete mi su instagram come o anche nei commenti se volete su instagram al mio canale de batman sempre de underscore batman con il 4 potete scrivermi risponderò io e potete anche inviarmi delle foto comunque qui come possiamo notare ci stanno la foto di un bambino che aspetta la strage della piccola casa tricky per disapire eccoci qua ma guarda che allora andre padre qua non ci sono ok allora il sale non non avevo i soldi io prendo questo tu prendi libro spiritico si prendo una torcia ovviamente perché sennò non vedi niente la torcia è quella in basso e prendi questo qua questo le mf non lincenzo eh le mf preso? no jennifer brodkinson ok sei riuscito? con la e si prende vero? si si fa prendere eh ma se te cambi slot vuoi essere pure che lo prendi sta con la torcia sta con la torcia ecco ora allontanati un po' adesso c'è il libro allontanati da lì va indietro andre va troppo vai va un po' vabbè lo prendiamo dopo eh prendi cavolo so prendi la spirit box questa qua su ok questo me l'ha fatto presa eh vabbè andiamo dai vedo che c'è una macchina fotografica luce e termometro ok eccoci qua oddio già non mi ricordo più come si chiama non ricordo solo il nome non lo nomina 20 gradi tu accendi la spirit box con il tasto destro e vediamo se rispondo piano piano 20 gradi ok 19 16 gradi troppo 16 16 18 18 18 16 19 uh l'osso l'osso ci dà più punti se vinciamo ma ha chiuso la porta si sta a fare un casino è chiusa la porta seguimi 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 perdita sempre dietro e me si Andre? Andre? Dove stai? Rispondi con B che non ti sento. Guarda che ti ho perso. Devi capire che il mio computer è quello che è. Ecco vai. Andre sbrigate perchè ci stanno dei rumori tremendi. Vieni all'entrata. Che sono all'ingresso? Ma dove? Che io sto davanti alla porta per uscire. Guarda che sono davanti alla porta proprio d'ingresso. Sono tra... Andre quella è un'altra porta per uscire. Gli piace suonare. Gli piace suonare. Gli piace suonare a questo spettro. Gli piace suonare. Gli piace suonare. Vieni alla porta d'ingresso. Sbrigati con shift mentre cammini. Sbrigati. Attegrati. Adesso mi ritrovo dentro al bagno. Guarda che sono davanti alla porta d'ingresso. Torca caccia la miseria. Sento parlare ma non ti vedi. Andre. Andre. Segui la luce. Mi senti? Segui la luce. Eh. È morto. Guarda se è morto. Guarda se è morto. Io entro dentro e li muoio pure io. Guarda. Guarda se è morto. Che non risponde più. E perché mi attacchi a me brutta sguardrina? Mi ha fatto un colpo. Lo jumpscare ci ha avuto. Andre. Rispondi qua. Ecco. Ti vedo la luce. Vieni qui. Qui. Oh. Oh. Allora. Mi ha fatto più un colpo. Rispondi con B. Sono un sacco di porte d'ingresso in sta caso. Sì. Stava qua eh. Stava qui. Cioè io sono entrato dentro e non ho visto come si chiama. Oh eh. Tre gradi. Tre gradi. Qua eh. No no. Per me sta su. Sette gradi. Cacchio sta qua. Tre gradi. Tre gradi. Tre gradi. Sta qui. Sentimi. Eh. Butta la spirit box per terra. Con G. Sì. Tutto eh. Eh. Ma dove sei te? Qua. 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 Butta. Andate pare vicino a un pianoforte. Butta. Usciamo fuori. Questa si chiama Jennifer. Jennifer e non mi ricordo il cognome. Robinson. Ok. Comunque madonna. Robinson. Ehm. Allora. Riesce a prendere questo? Andre. Quello di prima? Riesce a prendere l'oggetto di prima? Guardate che mi sei parlato un attimo. Riesce a prendere. Oggetto di prima lo riesce a prendere? Riesce a prendere. Riesce a prendere. Riesce a prendere. La temperatura? L'ho preso io questa? Riesce a prendere la temperatura? Però. Si è preso. Ho preso. Ok. Vabbè. L'ho preso io. Tranquillo. Allora. Adesso rientriamo. Per aumentare il livello? No. C'è tremendo. Rientriamo. Vediamo. E casomai riusciamo ogni prova. Che facciamo? Un piccolo. 6 gradi? Eh. Qui questo 2. Ma non faccio un cazzo. Ma non faccio un cazzo. Sì. 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 2 gradi. Eh. Eccolo. Eccolo. E' andato su? Ah no, sto qua. No, sto qua, sto qua. Sì, che ci sono dei momenti che tocca l'inquadratura, non ti vedo più. Sì, comunque questa tazza io non l'ho spostata. Sono due gradi? Zero gradi? Dimmi quando sta meno uno. Allora, qua dove sono io ci sono dieci gradi. Se vengo vicino alla tazza scendo. Tre gradi e sei qua. Due gradi. Ce l'ha il libro? Sì. Butta il libro per te. Tu per terra? Sì. O la G? Sì. No, ma ha preso. Ma che t'ha preso? No, 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 no. Ha chiuso la porta. Ok, usciamo fuori, esci fuori, esci fuori, esci fuori, esci fuori, esci fuori. Esci fuori, di corsa, Andre. Sì, sì, sono dietro di te. Allora, metti con Jay, prima prova spirit box. Adesso vediamo se è col libro spiritico. Andiamo a vedere quanta sanità mentale c'abbiamo. Che almeno muore uno. No, non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Seguimi. Soltanto quello fino adesso. Ma ce l'ha con me, ce l'ha con me. Ce l'ha con me. Andre, devi uscire, non devi entrare in casa. Vieni dove sto io. Madonna, santa mia. Questo. Che c'hai? Allora, provo a poi riprendere sta cosa qua. No, vieni qui dove sto io. Questo. L'EMF di prima. Guarda un po'. Qua su, sta su. Sta su. Qua, qua. Ho detto davanti a te. No, eh. Non te lo fa prendere. Mannaggia. Va. Fa prendere. Vabbè, prendi allora la torcetta piccola. Ecco, me l'ha fatto prendere. Me l'ha fatto prendere. Ok, allora, schiaccia. Quando sta a livello 5, cioè che va proprio al rosso, non all'arancione, dimmelo che quella è un'altra prova. Intanto vado a posizionare questo. Ok. Ok. Prezzo di cacca, fumante. Perfetto, perfetto. Porca putta. Matto. Oh. 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 Scappa, porca! Ma come? Come? Ragazzi, non ce l'ha toccato? Cioè, PandreTube non l'ha toccato? Come? Sono scomporto. Sono veramente scomporto. Ma... Ti giuro. Pandre! Oi! Ma non ti ha toccato? No, e per di più hai visto che avevi in mano l'MF, non c'è neanche illuminato, era sempre al primo pallino verde. Eh, vabbè, ma perché alcuni rispondono, altri no. Era una bambina. Ma non mi ha toccato. Lo so che non ti ha toccato, stava lontano. Da te stava lontano. Eh, io stavo anche scappando per uscire fuori. L'ho visto, ma te camminavi troppo piano. Deve tenere premuto. Ah, c'avevo lo shift attaccato. Eh, ce l'avevo attaccato. Guarda, ti giuro, non lo so. Cioè, la cattiva proprio, questa è stata proprio cattiva. E va bene. Concludiamo qui... 10 dollari. 10 dollari. 10 dollari. 10 dollari. Concludiamo qua il nostro appuntamento, vai. Salutiamo tutti. Ciao ragazzi. Speriamo che la prova... Calcolate che questa qua per me è la seconda partita che ho fatto. Infatti. E ragazzi, allora, se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un bel like, a commentare e a seguirmi nelle mie varie pagine social che troverete il link giù in info box e alla fine del video. Inoltre, seguite anche Pandretube. Mi raccomando. E speriamo che... Esatto, prego. E speriamo che alla prossima riusciamo ad ammazzare... No, ammazzare. È già morto, Proaccio. Riusciamo a sconfiggere questi... A prendere, a catturare. A catturare questi... Questi fantasmi. Perché, come avete visto, neanche ci ha avvicinato e siamo morti. Ma... Certo. Va bene. Allora, un salutone al prossimo video. Alla prossima. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie.